Buonasera ragazzi E andiamo E andiamo Che vittoria Che vittoria questa sera A Roma contro Lazio Una vittoria di carattere Una vittoria di carattere Ragazzi E andiamo ragazzi Cazzo Ci voleva questa vittoria Ci voleva questi tre punti Ce li siamo presi ragazzi Contro Lazio all'Olimpico Contro Lazio all'Olimpico Ragazzi quest'anno La Lazio sarà una delle squadre Più pericolose In campionato ragazzi Una delle squadre più pericolose In campionato E noi ci siamo presi una vittoria Importantissima Una vittoria sofferta E di carattere ragazzi Vittoria decisa Dalla doppietta di Bonucci Su due calci di rigore Impeccabili Due calci di rigore Impeccabili Da parte di Bonucci Andiamo ragazzi Cazzo E adesso Testa a Celsima 3D Testa a Celsima 3D In Champions Stamford Bridge Che dobbiamo cercare di prenderci Il primo posto Nel girone Dobbiamo cercare di prenderci Il primo posto Nel girone Avanti ragazzi Avanti ragazzi Avanti ragazzi Di cazzo Bene ragazzi Con questo è tutto Vi auguro una buona serata Iscrivetevi al canale YouTube Usitemi su Instagram Su ZebraBianconera95 E seguitevi anche sulla pagina Facebook Di ZebraBianconera Nel agire del dolore Fino alla fine Forza Juventus sempre Buona serata a tutti ragazzi Ciao